Sono arrivati in condizioni di ipotermia i 46 migranti sbarcati nel porto di Crotone da una motovedetta della Guardia Costiera. Si trovavano a bordo di una imbarcazione a vela che navigava in difficoltà a circa 80 miglia dalla costa calabrese quando sono stati raggiunti dall'unità navale italiana in missione SAR. Come lo sbarco di venerdì scorso, anche in questo caso i migranti provengono da Iran, Iraq e Palestina, sono partiti dalle coste turche circa 5 giorni fa. La motovedetta della Guardia Costiera ha trasbordato le persone dalla barca a vela e le ha condotte al porto di Crotone dove sono stati sbarcati 32 uomini, 5 donne e 9 minori accompagnati dalle loro famiglie. Hanno affrontato un viaggio difficile incontrando anche problemi meteo lungo la rotta e per questo la maggior parte di loro aveva i vestiti bagnati. Per nessuno dei migranti è stato necessario il ricovero in ospedale. I profughi sono stati poi trasferiti a bordo di un autobus al centro di accoglienza di Isola Caporizzuto.